Bentornati su MyFootballJersey. Vediamo un'altra maglia da portiere, questa volta è quella dell'Arsenal, per la stagione in corso, la 2023-2024, in edizione fan. L'edizione fan è quella un po' più comoda, pensata per i tifosi. Grazie a tutti. Maglia niente male. Devo dire che il template della maglia da portiere di Adidas è molto simile per tutte le squadre. Qui in alto vedete la recensione per la Juventus e come vedete cambia praticamente solo il colore. Fatta comunque molto bene, tutti i dettagli al posto giusto, bella la trama del tessuto, il costo lo vedete qui sopra, beh, cosa ve ne pare? Se volete maggiori dettagli trovate i riferimenti qua sotto in descrizione. Andate a vedere perché per i nuovi iscritti c'è anche un link col quale potrete ottenere un coupon da 5 dollari, e quindi diventa ancora più vantaggioso. Ora vi lascio la parte finale, prima però iscrivetevi al canale. È un piccolissimo gesto che vi chiediamo, ma ci aiuta a mostrarvi tutti i giorni recensioni come queste. Per oggi è tutto, alla prossima! Ciao! Ciao!